ciao a tutti ragazzi e bentornati su un nuovissimo video di cifro mobile come vedete sono usciti i toz della bpl una squadra della madonna direi con deca 94 in porta che in 93 mare 92 ali no 93 cante 94 per ton che non mandate a sard 93 luca fu 94 marcos alonso 92 volker 92 da 93 non no qui sono usciti pure i nuovi impact ma non ci interessa nevo sito ne ho gli eventi live ecco dot taz e pl ci andiamo a fare subito questa questa prova qui non dobbiamo colpire i cosi le aree rosse e dobbiamo entrare solamente la porta io già lo so perché prima già ho fatto una prova che erano usciti non già pensate subito sono subito sono venuto qui a registrare un video ecco premio e pl ce l'apriamo soprattutto carroll e venti e vede bersagli rossi e vince un gettone pl per la prima vittoria è un giocatore oro e pl un gettone pl un gettone toz per le successive ne usi piani toz non è solo il toz ma vedete qui qui invece dobbiamo mettere 25 fuori l'asse quindi credo andrò a fare questo qui ma servono altri 49 no aspetta 48 non ci ho fatto caso scusate altri 48 giocatori e altri 9 gettoni toz non fare due di queste speriamo che qui possono uscire pure i giocatori fuori classe della bpl perché non so potrebbe uscire che in un rune in un ibrahimovic tutto lo vende e poi dopo ti fa un po di crediti vediamo se escono quella tipo 77 in su quelli 77 da 79 in su io li vento e lo dico perché ovunque valgono circa 10.000 prima valevano e ora visto che sono uscite queste prove credo che varranno di più spero almeno 10.000 credito in più questo qui è il terzo episodio di film sul canale mi raccomando supportate questa serie facciamo continuo abbiamo 8 mila credito quindi credo dei giocatori se la faremo puntare gibson 76 però vedete costano 4 quello la è brutto ok andiamo a vedere questi qua squadra premia league facciamo massimo 75 ma donna ragazzi sono saliti un botto io voglio io voglio come faccio a comprare attimo voglio vedere i 70 allora i 70 quando costano wow bellissimo costano un botto costano i 72 cioè ragazzi questi qua sono crediti facilissimi io scusi eh sì scusi ho trovato un 76 quindi un attimo questo qui è sì questo qui deve essere la no ho sbagliato no bug da me difesa no no nessuno qui no mercato allora ragazzi sti cavoli di dozzo perché danno non ce ne farò mai e a prenderli quindi i 76 per sapere quando costano 23 mila 17 no ragazzi è un profitto spettacolare vai ci vendiamo subito chi bisogna lo metterei a 5 mila e 5 con bravura quindi 5 mila e 5 sì hanno fatto pure tipo un piccolo aggiornamento i 72 non ho visto quando costano cerchiamo i 72 sì l'ho visto però non lo ricordo ok ok 6 mila e 9 però no vabbè ragazzi è il top questo qua mettiamo pure le ecco io sto qua 7500 metto a seguire ecco obbligo oggetto andiamo nei piani e andiamo a vedere che abbiamo toz ci abbiamo due giocatori ci andiamo a fare altre due prove perché sono due prove ci escono e speriamo a questo punto di trovare un fuori classe speriamo un fuori classe a questo punto ho visto che ci servono così tanti crediti per i toz non credo che me li prenderò però spero che mi escono fuori l'asse sui 8 sui 82 ok 1 job in 2 è che ho sentito il rumore quella fa domani vi porterò un video di rainbow se ci riesco dalla rod tu gli è giacano sto a 13 mila crediti quindi fra poi lo comprerò ma è modesto ho inserito modesto nella squadra e ho tolto la sart ecco uno non venduto mamma mia 5500 75 buonissimo speriamo di un no un 72 però va bene mercato abbiamo quattro giocatori da vendere io ho trovato quello là che è stato venduto a 7000 io ragazzi vedete i miei picchioni così 5000 5005 tutti così che comunque se metti solo quattro giocatori comunque sono 20.000 crediti cioè 22.000 crediti abbiamo questo qua da 7.50 da vendere dai andiamo a modalità di attacco a proposito questo qua vi volevo dire sono 451.000 tifosi e sono salito a esperto 1 quindi credo che a legge non ci salirò perché mancano 5 giorni e vi porterò tutto quanto spacchettamento di ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pacchetti 9 pacchetti buoni dai andiamo a vedere bene qui hanno messo qualche roba mi fa piacere che ci sono usati così tali no guarda io vorrei andare a vedere runei quanto costa che l'altra volta l'ho trovato l'ho venduta a 30 quando ero 80 si è 81 si è 81 si è 81 si va bene è stato sempre altro invece i giocatori rossi non ti do che non superano i 82 2 vabbè parti si qua speciali quadrato 54.000 sacco no vabbè ragazzi mamma mia mi fa piacere che comunque i crediti si possono riacquistare c'è noi acquistare si diciamo non mi sa meno male ragazzi meno male veramente 7500 12.000 7600 5.900 4.400 va bene ragazzi vi consiglio pure a voi di farle queste prove che comunque ti fanno un botto di crediti io ho già 14.000 crediti quando iniziato il video ce ne avevano ben 8.000 mo sono salito già di 7.000 crediti più 5 10 20 26 sono salito a 30.000 crediti facendo queste prove e sprecandoci vabbè l'energia però 30.000 crediti e potrete trovare che ne so un 79 che farà pure lui 30.000 crediti oppure 40 non so ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate mi piace iscrivetevi al canale se ne ancora non l'avete fatto condividete il video e niente ci vediamo o stasera o domani con un nuovissimo video o di un bello di rainbow un salutone a tutti ciao